Acque agitate l'altra sera in Consiglio Comunale, poco dopo la presentazione della mozione, che richiedeva la convocazione di una commissione d'inchiesta che chiarisca i campi di imputazione dei referenti del Comune sul caso Argentina, reati caduti comunque in prescrizione. Il timore è che la commissione non verrà mai istituita, ha sottolineato Giovanni Rullo del Movimento 5 Stelle. È evidente che non c'è mai stata la volontà politica. Ma sentiamo dalle voci dei due diretti antagonisti della vicenda, il Sindaco Betta ed il Consigliere Mauro Ottobre. Alla richiesta delle opposizioni consigliari di convocare una commissione d'inchiesta sul caso Argentina, a cosa rispondono Sindaco e Giunta? Allora, Sindaco, Giunta e amministrazione. Purtroppo l'altra sera in Consiglio Comunale, sulla tematica, non è stato bello il Consiglio Comunale perché insomma un consigliere è veramente andato fuori da quello che è il rispetto del Consiglio e quindi sono partite offese e si è andato veramente oltre quello che è il ruolo istituzionale. Noi stando nel merito vogliamo semplicemente dire questo, che rispetto alla mozione noi ci siamo astenuti ma proprio per i toni e quanto è accaduto anche all'interno del Consiglio Comunale. L'amministrazione è disponibilissima con le opposizioni a fare una commissione d'inchiesta, poi bisogna capire cosa si intenda per commissione d'inchiesta, come strutturarla, quali siano i tempi e dove si voglia arrivare. Chiaramente con il 31 di maggio vi sarà la sentenza, quindi un tribunale ha lavorato e quindi con il tribunale vi sono stati periti, vi sono stati tutta una serie di tecnici e la magistratura con tutto il suo organismo che ha lavorato su questo. Il titolo quarto della Costituzione parla proprio di magistratura e quindi la magistratura ha fatto il suo lavoro e darà una prima sentenza di primo grado. Poi bisogna capire cosa desiderano i consigli comunali di opposizione fare insieme. Io ho proposto in una riunione di capigruppo se hanno intenzione di prendere il lavoro fatto da parte del tribunale, aggiungerci il lavoro che comunque hanno fatto anche i comitati, i comitati degli ambientalisti eccetera, per arrivare a cosa? Quindi ci vuole chiarezza su quale sia l'obiettivo di questa commissione. Purtroppo fino ad ora ho visto solo polemiche da parte delle opposizioni e un argomento molto ghiotto per fare confusione. Questo fino ad oggi ho visto perché non comprendo e tutta l'amministrazione non comprendo quale sia lo scopo che le opposizioni vogliono fare. Tanto è vero che l'altra sera in consiglio comunale nel momento in cui ci sono state delle domande di merito è venuta fuori quasi una semirissa. Chiaramente una rissa che hanno iniziato in particolare un consigliere comunale in solitaria con termini e offese. Quindi da quel punto di vista lì, secondo me, le opposizioni si chiariscano cosa vogliono fare e l'amministrazione tranquillamente fa una commissione di inchiesta, studio, come andrà sostanzialmente definita, su quello che è l'Argentina. Chiaramente ci deve essere un obiettivo preciso di quello che si vuole fare e dove si vuole arrivare. Ad oggi c'è stato solo il tentativo di creare nella nostra comunità quell'ombra, quella sensazione negativa. Noi siamo per la totale trasparenza, l'amministrazione è qui con serietà. Tra il resto, durante le fasi processuali, io ho fatto una domanda l'altra sera, chi ha partecipato alle fasi processuali del consiglio comunale, mi pare di aver capito che chi era proponente di quella mozione non ha partecipato alle fasi processuali. Andare alle fasi processuali vuol dire ascoltare e capire. Secondo me non c'è la voglia di capire, c'è solo la voglia di creare confusione e nella nostra comunità ancora litigio. Purtroppo questa è una mia sensazione che è stata anche verificata dai fatti. Comunque noi siamo qua, trasparenza totale, per chi vuole esserci, partecipare, capire e comprendere. Il prossimo fine settimana ci sarà il dibattimento a Roveretto sul caso Argentina. Qual è la sua carenza, secondo lei, da parte del Consiglio Comunale? Il Consiglio Comunale non ha nessuna carenza, chi ce l'ha è il sindaco Alessandro Betta, puntualmente non risponde, abbiamo il forte sospetto che lui nasconda, non ci ha dato la possibilità, noi consiglieri comunali, di verificare le carte, ha risposto alle interrogazioni in modo, addirittura ha detto che le tavole lui non le ha, che di rivolgersi alla procura. Insomma, io credo che un atteggiamento di questo tipo, l'ho detto ieri sera in aula, Betta sta scrivendo una brutta pagina della storia del Comune di Arco. Premesso che tutti, fino a prova contraria, sono innocenti, andavano affrontato in modo diverso la questione, e più volte l'abbiamo fatto presente, non solo io, ma anche altre forze di opposizione. Cosa non ha fatto Betta, diciamo così perché è più capibile? Allora, la procura indaga i funzionari del Comune di Arco 2, la dirigente dell'area tecnica è un altro funzionare. Betta cosa fa? Gli lascia il suo posto. Un'altra amministrazione o il segretario nazionale del suo partito del PD avrebbe sicuramente, quantomeno, chiesto ai funzionari di che reato si trattava. Ebbene, in aula, Betta, per ben due abbondi anche di sera, lui non sa la procura su quale reato, l'abuso d'ufficio, non sa rispondere su questi funzionari, su cos'era basata l'accusa. E questo ha risposto anche ieri, non ha risposto ieri. Gli ho detto che è normale che lui non sappia. Io credo che se un sindaco non sa il funzionario cosa è indagato, qualche problema ci sia. E questo è un dato di fatto. Quindi Betta non sa. Invece io ho dovuto scrivere personalmente una lettera al segretario comunale, ho chiesto spiegazioni e il segretario comunale mi ha risposto. E da qua è una cosa molto, molto strana, che il sindaco non sappia qual è il reato. Secondo, i funzionari hanno beneficiato della prescrizione del reato d'abuso d'ufficio. Anche questa è una brutta pagina per il Comune di Arco. Perché, per esempio, nell'altra parte d'Italia, chi è accusato d'abuso d'ufficio non si nasconde poi dietro alla prescrizione del reato. Certamente è legittimo, non lo può fare, ma sarebbe stato opportuno che queste persone, quantomeno Betta, chiedesse di rinunciare alla prescrizione del reato. Perché chi è che rinuncia alla prescrizione del reato? La persona che si sente innocente, che non ha commesso nulla, e che va davanti al giudice e dice io mi faccio, accetto il giudizio della magistratura. Anche qua è una cosa che ha fatto storgere molto il naso, non a ottobre, ma a tanti cittadini di Arco.